Siamo con Adelaide Serafino dopo il pareggio tra Cesena e Freedom. Adelaide, una gara a due fazze, primo tempo, non avete approcciato benissimo, poi nella ripresa siete riusciti a riazzuffarla, ma nel complesso un risultato che non vi può soddisfare a pieno. No, non siamo completamente soddisfatte per il risultato in primis e magari anche la nostra prestazione, perché abbiamo dimostrato che possiamo giocare meglio, possiamo fare molto meglio, come è dimostrato il campionato fino anche alla partita di mercoledì. Sappiamo giocare, abbiamo giocato bene e questa partita probabilmente è stata un po' il frutto di queste due trasferte, della terza partita in una settimana che si è sentita e forse mentalmente abbiamo approcciato al massimo la gara, magari esserci un po' allontanate dalla vetta, abbiamo perso un po' quelli che sono i nostri obiettivi. Poi abbiamo ripreso, ci si è ripreso nel secondo tempo e abbiamo cercato, come abbiamo anche dimostrato in altri partiti, di rivoltare la partita, abbiamo fatto due reti e abbiamo portato a casa il pareggio in una partita che poteva essere molto più difficile. Vado un po' più nel particolare, parlo della tua gara, abbiamo visto, hai subito due gol, ma hai fatto anche due parate molto preziose nel finale, prima su Burbassi, poi su Mellano, vuoi un po' parlarci di queste due situazioni? Il ruolo del portiere purtroppo è questo, quindi il gol è difficile farlo, anche se ho provato a salire su un'azione del gol, quello che posso fare è intervenire su questi palloni, la squadra aveva bisogno, quindi ho fatto quello che chiede il mio ruolo. Grazie Delaide. Grazie. Con Alain Conte, dopo il pareggio tra Cesena e Freedom per 2-2, mister, un risultato che nonostante sia arrivato da un doppio svantaggio non può vedervi soddisfatti a pieno, perché è un risultato che vi esclude a questo punto della stagione dalla lotta per quanto meno il secondo posto, e un approccio sbagliato da parte delle sue ragazze, secondo lei cos'è che non è andato? Vabbè, sicuramente abbiamo accusato un po' il polpo di mercoledì psicologicamente di fare evidente, e abbiamo regalato tre quarti di partita fondamentalmente, perché poi devo dire che sul 2-1 abbiamo avuto l'occasione prima di pareggiare alla partita, e potevamo sfruttarle meglio, e poi magari trovare l'arrembaggio nel finale, però io alle mie ragazze vi faccio un applauso per la stagione che hanno fatto, per anche oggi, comunque, ho portato il cuore l'ottimo stagione, non c'è tanta stanchezza, e c'è stato un pedraggio con l'antiquato, io di solito non parlo mai degli altri, ma diciamo così, gli errori si possono fare, infatti non discuto gli errori, però c'è anche un modo di approcciarsi alle ragazze e agli staff tecnici, di un certo tipo, il rispetto e l'educazione dovrebbero sempre prevalere sui due. C'è qualche, scusi, se ne interrobo, c'è qualche situazione in particolare? No, 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 è proprio la gestione della gara, secondo me, che non mi è piaciuta, e non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo in questa stagione, noi siamo una squadra molto corretta, se andate a vedere a referto non abbiamo nessuna ragazza con 4 neanche 4 munizioni, per cui non mi piace quando le cose che vanno fuori dal campo sono, non mi piacciono, quindi, detto questo, abbiamo meritato, meritavamo di stare sotto, non è che mi appello assolutamente alla direzione, non è quel tema, siamo stati bravi, secondo me, ribadisco a recuperarla, e alla fine ci abbiamo anche creduto di poterla ribaltare, però, insomma, è venuta fuori un po' tutta quella stanchezza, anche un po' psicologica di questa settimana, però, ribadisco, io mi cavo il cappello davanti alle mie ragazze, perché hanno fatto una stagione incredibile, e le tre che ci stanno lottando per i primi tre posti sono squadre e società che hanno mezzi di altre due categorie, non una, e quindi io gli faccio l'applauso, le mie le avrei fatte comunque, ma glielo faccio convintamente. Tornando sulla partita, a fine primo tempo ha sostituito Jansen, poteva dare magari più fisicità nella ripresa, quando sono arrivati anche diversi palloni alti, con le sostituzioni degli esterni, motivazione? Diciamo che abbiamo tenuto pochi palloni davanti, secondo me oggi probabilmente Sofie ha sentito anche lei un po' di stacchesse, perché è l'unica che ha giocato praticamente tutte le partite di questa settimana, per cui una scelta tecnica, alla fine credo che la partita l'abbiamo in qualche modo ribattata, perché prendiamo gol dopo tre minuti nel secondo tempo su un errore tecnico nostro, altrimenti avremmo fatto come al solito un'altra impresa, secondo me, però ribadissimo, siamo arrivati a questo punto della stagione, stanchezza si sta che le ragazze fossero anche un pochettino scosse per la partita di mercoledì, perché è stato un bello schiaffone per noi, anche se ho sentito qualcuno che diceva che dovevamo essere contenti del quarto posto, cioè quando arrivi a questo punto della stagione non c'è nessuno che si accontenta, non so chi si accontenta forse non ha mai fatto sport, noi ci provavamo e abbiamo avuto sicuramente pochi giorni per recuperare, loro oggi avevano più determinati di noi, perché con un punto, anzi tre probabilmente, avrebbero sicuramente avuto una salvezza matematica, attendono domani, dico anche che sarebbe bello che le ultime partite si giocassero tutte in contemporanea, mi auguro per le tre che sono davanti, perché sarebbe rispettoso nei loro confronti, ormai noi siamo un po' fuori dalla partita, che le ultime due partite almeno le giocassero tutte in contemporanea, perché non è mai bello quando qualcuno sa già i risultati delle altre, quindi credo che sia un passo avanti che deve fare in questo senso, grazie. Grazie mister. Con Michele Ardito dopo il pareggio per 2 a 2 della sua Freedom contro il Cesena, mister, una gara preparata sotto il punto di vista tattico in maniera impeccabile, un 3-5-2, molto solido in fase difensiva, e siete riusciti a portarvi sul doppio vantaggio, poi dopo nella ripresa il Cesena ha recuperato, comunque un buon punto e il traguardo della salvezza lì, un passo. Sì, luchiamo anche forse più di un passo, però è giusto aspettare quello che serve per festeggiare. Ma le ragazze sono state molto brave, hanno preparato questa partita in questo modo, abbiamo affrontato in Cesena una grande squadra, non dimentichiamoci quello che sta facendo questa squadra, quindi non è molto loro, è chiaro che poi, e noi abbiamo probabilmente la sorpresa, è stata con Martin abbassata nella nia di Centrocampo, che non dava quindi riferimenti a loro, e quindi riuscivamo a uscire con un 3-4-1-2, e quindi secondo me questo è stato un po' il giocchino che abbiamo fatto bene, in particolare è stato bene. E' chiaro che poi abbiamo subito il ritorno del Cesena, su due palloni che potevamo sicuramente gestire meglio, ma niente da dire alla mia squadra che, come dicevi tu prima, in fase di non possesso sono state quasi perfette, quindi nulla da chiedere a questo gruppo che ancora oggi si è sacrificato tantissimo, ha interpretato bene tutto quello che gli avevamo chiesto di fare, quindi un grazie a tutto lo staff che ha lavorato molto bene, un grazie a questo gruppo di lavoro di squadra che abbiamo, che non hanno mai mollato un centimetro, e adesso arriviamo a fare prestazioni di questo genere. Che gara è stata per lei, faccio la domanda personale, che ha passato gli ultimi due anni qui a Cesena, ritornare a Martorano, vedere anche vecchie giocatrici che ha allenato, colleghi, che mostri ne ha vissuto? È stata una bella emozione, sono stati due anni splendidi, quindi ringrazio Cesena per me l'avevano dato l'opportunità, mi ha fatto piacere salutare la società, ex giocatrici, ma il rapporto con loro è sempre stato ottimo, quindi erano soltanto emozioni che ho vissuto, man mano che ci arrivavamo qui al campo di gara, quindi per me è stata una partita speciale. Grazie mille mister. Grazie a te. Con Bruni, dopo il pareggio tra Cesena e Freedom, una gara a due facce, siete state molto brave nel primo tempo, a portarla dalla vostra parte, poi nella ripresa avete raddoppiato, nel finale invece Cesena l'ha recuperata nel complesso, comunque un risultato positivo anche in ottica salvezza. Sì, in realtà me l'avevamo preparata abbastanza bene, nonostante le due partite sia contro il San Marino, che comunque avevamo anche preparate bene, e poi si sa com'è finita. Forse c'è mancata quella voglia in più di prevalere contro una squadra come il Cesena, che è fortissima, arrivare tra le prime quattro in questo campionato non è per niente semplice, ma appunto noi lo saltavamo e siamo arrivati qui con la voglia di conquistare quel punto che ci serviva per la matematica salvezza. E tutto sommato abbiamo giocato abbastanza bene, trovando questo nuovo modulo, il 3-5-2, così stiamo trovando abbastanza bene. Esatto, ti volevo chiedere proprio le tue impressioni su questo sistema tattico. Oggi per gran parte della gara siete riusciti a resistere a un attacco molto forte come quello del Cesena, mix tra anche una sorta di buona intesa con le compagnie di reparto. Sì, più che altro abbiamo trovato delle dinamiche tra di noi, magari proprio io vai avanti tu, comunque abbiamo trovato quei meccanismi che in una difesa 3 devono trovarsi, proprio perché è più difficile rispetto al solito, perché si è in 3 contro 3, e in questo caso io scendo magari su Pamborini o Secchi, cioè comunque noi puntiamo alla marcatura stretta e con una punta che si stacca sempre dietro, però poi ci stiamo trovando molto bene, meglio rispetto a quello che ho fatto. Grazie mille. Grazie a lei.